Musica Buonasera, ben trovati al Tg Live, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Teleregione Live. Apriamo parlando dell'attentata a rapina alla stazione Eni di Cagliari. Otto persone hanno sradicato l'impianto ATM del distributore, caricato la casaforte su un furgone rubato e sono scappate via. I carabinieri non sono riusciti a intercettare la banda, ma hanno recuperato il furgone e il bancomat intatto sulla statale a Selarjus. Sentiamo Federica Portoghese. Assalto noturno al distributore Eni Station di Selletta a Cagliari, intorno alle due e mezza del mattino. Si tratta di una banda di almeno otto persone con passamontagna. I rapinatori hanno sradicato l'impianto ATM della stazione di servizio, caricato la casaforte su un furgone rubato in serata Mara Calagonis e poi si sono dati alla fuga. Il furgone, scortato da una BMW, è stato intercettato da una gazzella del radiomobile di Dolianova sulla strada statale 387 a Selarjus, nelle vicinanze del canile Sciardana. Quattro uomini sono scesi precipitosamente dal mezzo e sono scappati al buio per i campi, mentre l'auto è riuscita a far perdere le proprie tracce. Colpo fallito per la banda, che non è riuscita a recuperare nemmeno un euro, dato che il bottino è rimasto dentro al furgone. L'inseguimento dei carabinieri in aperta campagna, però, è andato vano. Sul furgone e sulla TM recuperato intatto, sono ora in corso i rilevi tecnici del nucleo investigativo e del RIS di Cagliari. Sin da 2005, anche alla presenza dei figli minori, ha maltrattato fisicamente e psicologicamente l'ex compagna convivente, che avrebbe anche subito violenza sessuale. Un uomo di 60 anni, cubano, residente ad Assemini, è stato arrestato dai carabinieri di Villanova. La donna si trova insieme ai figli in una località protetta, mentre l'uomo in manette si trova nella casa circondariale di Uta. Questa mattina, a Cagliari, i deputati del PD Marco Meloni e Silvio Lai hanno espresso la loro posizione contraria alla legge di bilancio 2023 del governo Meloni. Il partito ha proposto un emendamento alla Camera che richiama la condizione di insularità, l'energia e la continuità territoriale. Federica Portoghese. Una legge di bilancio aggressiva nei confronti del Mezzogiorno, così il Partito Democratico descrive la manovra 2023 del governo Meloni. Questa mattina, a Cagliari, i deputati del PD Marco Meloni e Silvio Lai hanno espresso chiaramente il loro giudizio negativo, proponendo attraverso un emendamento alla Camera degli interventi strutturali che facciano affronte al principio di insularità, all'energia, trasporti e continuità territoriale. È la richiesta di risorse per il potenziamento del sistema dell'istruzione per scuole e università. È una manovra che penalizza chi sta peggio. È una manovra che toglie in qualche anno, in due anni, 10 miliardi alle pensioni, circa 5 miliardi alla povertà, che non prevede nulla per lo sviluppo e per il Mezzogiorno e le isole, che crescono meno dell'Italia, del resto d'Italia. Una legge di bilancio a breve respiro, secondo il PD, che non investe nel sud. Un grido di protesta assente in Sardegna, sottolinea il partito, nei confronti di una manovra che penalizza l'isola. Un emendamento che noi abbiamo presentato è sull'Einstein Telescope. Prevediamo la nascita di una unità di missione presso la Presidenza del Consiglio per dare concretezza a questa impresa, che non è un'impresa soltanto regionale o locale, è un'impresa assolutamente nazionale. Sull'energia abbiamo lavorato perché la Sardegna è esclusa da tutti gli sconti che sono previsti per chi usa il metano e noi abbiamo invece previsto, con due emendamenti, che questa cosa non funzioni soltanto per il resto del paese, ma funzioni sia per le aziende che per le famiglie che stanno in Sardegna. Il 90% delle risorse per il credito d'imposta verranno indirizzate alle assunzioni dei giovani al nord, denuncia il PD. E sul tema sanità, la legge di bilancio non prevede un aggiornamento del contratto di lavoro sanitario. Nell'emendamento proposto dal partito, un'attenzione anche all'acquisizione della linea Nuo-Roma-Comerta alle ferrovie dello Stato. Chiediamo alla maggioranza e al governo di ascoltare la Sardegna, le isole, il mezzogiorno, è di fare qualcosa non per chi vuole evadere le tasse, perché questa è una manovra che invece prevede 11 condoni e oltre un miliardo per chi sostanzialmente vuole evadere le tasse. Con una sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo che aveva impugnato alcune norme in materia di urbanistica e caccia contenute nella legge regionale 17 del 2021. Tra le decisioni più significative assunte dalla consulta c'è la dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità relative alla tutela delle zone umide. L'esame del merito, sottolineano i giudici, è precluso dalla carenza di motivazione di talune censure come eccepito dalla difesa della regione. Stamattina il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, ha firmato il decreto di nomina di quattro assessori che comporranno la nuova giunta. Si tratta di Fabrizio Becco, lavori pubblici e sport, Fausta Moroni, servizi sociali, Rachele Piras, bilancio e Valeria Romagna all'ambiente. Le deleghe non ancora attribuite sono tenute ad interim dal sindaco in modo da consentire nei prossimi giorni il completamento dell'esecutivo. Abbiamo scadenze amministrative improrogabili, ha spiegato il primo cittadino. L'attività del comune deve andare avanti e i tempi della burocrazia non coincidono con quelli della politica. Subito dopo l'accettazione della nomina da parte degli assessori, la giunta si è riunita e ha approvato alcune delibere, tra le quali l'aggiornamento delle tempistiche del programma integrato di riqualificazione urbanistica, il cosiddetto PIRU. Una legge di bilancio iniqua e inefficace è il giudizio della CGL sulla manovra finanziaria nazionale e con questo slogan il sindacato porterà il malcontento in piazza anche in Sardegna. Appuntamento a Cagliari venerdì prossimo 16 dicembre in piazza del Carmine. Daniela Astara. Venerdì prossimo 16 dicembre si annunciano disagi anche nell'isola per via dello sciopero generale proclamato dalla CGL con una manifestazione regionale in programma a Cagliari. Questa mattina Fausto Durante, segretario della CGL Sardegna, ha illustrato le ragioni della scelta dello sciopero e della piazza per spronare il governo a modificare la legge di bilancio che il sindacato definisce iniqua e inefficace contro il lavoro sbagliata e da cambiare. È una manovra che non dà nulla dal punto di vista delle politiche industriali e delle politiche energetiche, che non fa nulla per affrontare il tema del carovita e del rincaro dei prezzi delle materie prime, dei generi alimentari. I salari stanno perdendo circa 180 euro di potere d'acquisto al mese. Tra le proposte della CGL sviluppare la contrattazione collettiva, introdurre laddove serve il salario minimo, ma anche un meccanismo di indicizzazione dei salari che permetta di rinnovare i contratti nei tempi giusti e poi la questione fiscale. Prosegue una iniquità e una ingiustizia nel trattamento fiscale del lavoro in Italia e in più, se posso dire, si agevolano surrettiziamente atteggiamenti volti all'infedeltà fiscale e al non compiere il proprio dovere di cittadini e di contribuenti. L'uso del contante, lo scoraggiamento di POS e carte di credito. Cioè è tutta una filosofia dietro che noi non condividiamo e che contrasteremo con la mobilitazione. Un silenzio assordante delle istituzioni circonda l'avvertenza Portovesme SRL. Il tempo passa e il rischio che 1.300 lavoratori e lavoratrici restino dal 31 gennaio senza lavoro. Non lo accetteremo passivamente, lo denunciano le segreterie delle principali sigle sindacali che stanno pensando di portare l'avvertenza a Roma con una manifestazione di protesta. È il ridimensionamento dell'ospedale di Tempio Pausania a preoccupare il sindaco di luogo santo Agostino Pirredda che si schiera contro l'atto aziendale dell'AS Gallura. Possibili sviluppi sono attesi dalla convocazione della conferenza sociosanitaria in programma per venerdì prossimo. Sentiamo Stefania Costa. E' un no deciso e senza sconti quello del sindaco di luogo santo Agostino Pirredda nei confronti dell'atto aziendale dell'AS2 e della Gallura. Adottato senza concertazione con i sindaci del territorio nonostante il parere negativo espresso dalla conferenza sociosanitaria e la promessa di nuovi incontri mai avvenuti. I criteri indicati nell'atto aziendale, dice Pirredda, vanno rigettati. Assoluto rigetto e assoluta negazione di quelli che sono i criteri indicati in quell'atto aziendale. Una posizione chiara, quella del sindaco di luogo santo che condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi di Arzachene e Tempio. Proprio il Paolo Dettori di Tempio, ospedale disossato dai principali servizi e ridotto ad ambulatorio, rappresenta la più grande preoccupazione per Pirredda. L'ospedale di Tempio è ridotto a un misero ambulatorio, proprio per dirla in parole povere. L'assenza di strutture complesse fa sì che noi saremmo dirottati verso Olbia e verso Sassari. Però io dico questo, Olbia, l'ospedale di Olbia è in grado di supportare tutto il carico di lavoro che gli verrà riversato in seguito alla chiusura dell'ospedale di Tempio, perché di questo si tratta. Tutti i nostri cittadini saranno in grado, avranno tutti la stessa accessibilità alle cure. Sono queste le domande che ci facciamo e sono questi i quesiti che ci poniamo. Noi dobbiamo garantire una sanità equa a tutte le fasce di popolazione, indistintamente da quelle più ambienti alle meno ambienti. Inizieranno a giorni e proseguiranno per circa due mesi le operazioni di bonifica e di sgombero dei rifiuti nella zona di Piandana a Sassari. Ad aggiudicarsi l'appalto da 118 mila euro, l'Associazione Temporanea di Imprese è formata da E-Ambiente di Porto Torres e Natura Ambiente di Milano. Sarà l'associazione temporanea d'impresa formata dalla E-Ambiente di Porto Torres e la Natura Ambiente di Milano a disinnescare la bomba ecologica di Piandana a Sassari, sgomberata lo scorso 3 novembre dalle forze dell'ordine. Le due società si sono infatti aggiudicate l'appalto da 118 mila euro più IVA, predisposto dall'amministrazione comunale, per lo sgombero dell'area, grazie alla maggior celerità garantita nell'esecuzione dei lavori, a parità di offerta tecnica rispetto alle altre due proposte pervenute. È stata fatta una manifestazione di interesse e quindi poi è stata individuata l'atti che dovrà nei prossimi giorni iniziare, dopo la firma del contratto, iniziare i lavori di ripulitura di tutto il campo. Aria che sarà naturalmente bonificata, sarà chiusa e nel futuro penseremo di utilizzare quell'area per altri tipi di interesse. Per lo smaltimento una volta fermato il contratto si parte subito. Noi contiamo nel giro dei due mesi di ripulire interamente il campo. Ci prenderà la prima parte, diciamo così, sarà interessata alla divisione delle categorie dei rifiuti, perché tutto ciò che può essere riciclato o comunque conferito alle società che possono riciclare il rifiuto saranno ovviamente inviate lì. La parte invece che non potrà essere differenziata andrà direttamente su scala R. Oltre 100 giocattoli contraffatti di varie marche e tipologie sono stati sequestrati a Porto Torres dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e Disastri e della sezione operativa di Porto Torres insieme alla Polizia Locale. L'intervento è stato effettuato all'interno di un negozio che è stato anche sanzionato. Ora ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci troviamo subito dopo con la seconda parte del nostro Tg.